Mamma mia, non trovo mai roba in questa casa, non trovo mai in questa casa roba, buongiorno, che stai facendo? Io mi stavo cercato a stirare, io andavo in un posto, ci portavo tutte le cose di qua a stirare, ma si paga? Si paga, per stirare, già l'ho lavato io. Ma che c'entra? Magari per stirare si paga? No, no, ma che c'entra? Che c'entra? Che ci vuole? Un diluvio, un po' più ferro. Un po' più ferro, ma vuole un'estri parola. Una cosa e l'altra li stirano, un po' più tanti che fai il cuore. Eh, uniranno a portare. Ma andiamo, che poi faccio la roba. Perché sto sogno senza roba? Perché giustamente tu li stai accumulando senza stirare? Oppio, oppio, ma di che ti stiri tu? E dove dobbiamo andare? Usciamo, ti porto io in un posto che mi stirano, e infatti mi danno a stirare davanti, perché mi sentono. Ah, sono potuto andare a fare spazio? È gratis. Ma perché consumano detersivo? Luce, luce, c'è luce di che? La piste di radio. Fra una cosa e l'altra, adesso mai ci ho metto con prezzo alla luce. Vabbè ragazzi, vabbè andiamo, forza. A tra poco ragazzi, vediamo. Eh, eh, eh.